Edicolo Fiore, dal 9 aprile, ovunque! Tra un po' cominceremo, non so di cosa parliamo. Usa, corsa da chirurgo per il naso di Kate, che vuol dire? Miglia, con te raggi cosmici, che due coglioni ragazzi, veramente, vabbè! Tutti si rifanno il naso come Kate. Agonia! Hai già il naso per il futuro! Edicolo Fiore, dal 9 aprile, ovunque! One, two, three, four! Edicolo Fiore, Edicolo Fiore, Edicolo Fiore, fatta il buon uore! Questa finale era peggio!